Lo stucco veneziano è un rivestimento murale acrilico per interni che permette di ottenere una finitura decorativa lucida unica nel suo genere, che ricorda gli stucchi presenti negli antichi palazzi di Venezia. Per la rasatura di fondo si utilizza il frattazzo in acciaio, mentre per lo strato di finitura sono necessarie delle spatole in acciaio di diversa grandezza. Per la preparazione del fondo si applica il prodotto in almeno due strati, a seconda della porosità del supporto, considerando un consumo medio di circa 1-1,2 kg al metro quadrato. Applicare stucco veneziano con il frattazzo d'acciaio, rasando per ottenere una superficie liscia ed uniforme. Attendere 5 ore tra un'applicazione e la successiva, carteggiando sempre con carta abrasiva di grana non inferiore alla 220. Togliere eventuali tracce di polvere con uno straccio asciutto. Prima di procedere con la finitura, verificare le condizioni della lama della spatola in acciaio inox che verrà utilizzata. Se essa è nuova o appare rovinata, levigare un lato della stessa con carta abrasiva 600 per sgrossare le imperfezioni e di seguito con carta abrasiva 1500 per rifinirla. Una volta preparato il fondo e l'attrezzo, applicare con la spatola d'acciaio lo strato di finitura. Tale operazione deve essere effettuata prelevando piccole quantità di prodotto, stendendolo con movimenti rapidi, decisi e aventi direzioni diverse ad ogni spatolata e depositando sulla superficie solamente un velo di prodotto. Dopo aver decorato la porzione di parete, che dovrebbe essere di circa mezzo metro quadrato, è possibile passare alla lucidatura. Premendo decisamente più volte la spatola sulla superficie con movimenti circolari. Per esaltare la brillantezza della finitura, è consigliabile passare con una carta abrasiva finissima 1500 e quindi ripetere l'operazione di lucidatura mediante la spatola in acciaio inox. Grazie a tutti. Grazie a tutti.